Laguna seca un po' fredda dal punto di vista televisivo, telecronica fredda e distaccata, si vede che non sono sul posto a spiegare, le stesse persone che si vantavano di essere sul posto mentre gli altri sdottoravano da casa, adesso non ci vanno più e sdottorano dall'aria condizionata dello studio. La MotoGP ormai è una cosa in saldo, sembra, è già di fatto simbolicamente passata a Sky, si spreme quel che si può, se rossi va bene, altrimenti non importa, è qualcosa che si sta mollando, quindi inutile spendere i soldi del viaggio se si sta in studio è meglio e questa si rivela una fortuna se si pensa all'utilissimo speciale morte in pista andata in onda il giorno dopo, purtroppo una fortuna professionale ovviamente anche se è chiaro che nessuno avrebbe mai voluto fare una trasmissione del genere, sono stati chiaramente costretti. Tornando alla MotoGP tutto è stato abbastanza chiaro che la vittoria di Rossi era dovuta al suo talento ma anche alle assenze, una cosa difficilmente ripetibile e infatti non si ripete una roba così. Poi per scaldare la minestra nella settimana viene mandato in onda il primo dentino di Rossi sul passo a Laguna, la scuola elementare, persino una marchettaccia fatta sul sito con l'intervista di una ragazza spacciata per, diciamo così, per intervistatrice che invece fa una pubblicità al VR46 che sta benissimo sul suo sito ma non su quello di Sportmented. Comunque, tornando alla gara, va nel peggiore dei modi possibili, il podio cioè è una gran cosa ma sia chiaro che il sorpasso al cavatappi è veramente uno sfregio in faccia all'idolatria portata avanti in questi anni e infatti la reazione è patetica non da parte di Rossi che conosce molto bene la comunicazione e anche se Rossi gli dà fastidio fa comunque buon viso a cattivo gioco ed è leale. Non ci crede nessuno che è felice, nemmeno un frate è contento di perdere quando gioca a pallone, quando fa Sport, chi è stato in oratorio lo sa, figuriamoci Rossi del resto non si vincono 9 titoli per niente. Ci tengo a ricordare i 9 titoli perché è una cosa di cui si parla sempre abbastanza poco, ma dicevo la reazione è patetica da parte di chi fa il commento. E visto che il sorpasso è irregolare, perché secondo me anche quello di Marquez è irregolare seppur portato da una leggera spintarella, non si può usare come arma perché l'aveva già fatto Valentino quindi la chiave è proprio il prenderla bene da parte di Valentino perché è questo che ruba l'attenzione cioè non la ruba perché l'impresa è quella di Marquez che vince al debutto dopo aver visto Laguna solo la Play nei paesi normali, però la ruba da noi. Diciamo, Bradley non conta quasi, se ne parla veramente poco non è facile vincere al debutto Tony di Messi e basta, di Marquez non si parla quasi più, c'è più spazio dato all'abbraccio di Valentino a Marquez che ha tutto il resto. Salvo ovviamente la crocifissione fast food alle Ducati. Tornando al tema, è Rossi che lo vuole, ci va addirittura due volte da Marquez a complimentarsi una roba mai vista da parte di uno che perde, del resto la telecamera è lì e quindi lì che bisogna andare Valentino non lo sa, perché per quanto riguarda i giornalisti poi ognuno pesca dal suo background culturale c'è il cabalista, ma il distacco di Valentino da Marquez è 46 punti, pensate. Poi c'è il sociologo che spiega che è più bravo lui a perdere che quell'altro a vincere e che poi addirittura il peggiore di tutti è Stoner che si era addirittura arrabbiato, pensate, si era arrabbiato Stoner, gli altri non si arrabbino, sono contenti che vengano superati. Poi c'è il masochista e dice c'è addirittura un godimento intimo da parte di Valentino, ah, sì passami ancora sulla sabbia, sì sì. Poi c'è quello che ha visto troppi Star Wars e vede il passaggio generazionale fra Valentino e Marquez così, cioè Valentino diventa a un certo punto il padre di Marquez come Luke Skywalker e Darth Vader, Mark, sono tuo padre, una roba così. Poi nella difficoltà viene chiamato, sono la difficoltà del periodo e poi visto che non si va in viaggio viene chiamato il Mr. Wolf delle giustificazioni, ne viene riesumato a Terruzzi che è quello che aveva detto con un pezzo magnifico, il conto è chiuso, che è poi quello che ha fatto nascere il Mr. Helmet che vedete, che la Superbike era uno sport in anni e ballerine di vigliacchi che non volevano correre con la pioggia, la stessa persona che si trasformerà in un esperto di 626 il giorno dopo nello speciale morte in pista, quello che ha fatto un pezzo contro i ciclisti che stanno in mezzo alle balle, che facevano le pagelle sulle ciccione che venivano inquadrate IGP e oggi capisce che il piatto del giorno è Valentino che sa perdere, così bene che la vittoria di quell'altro passa in secondo piano, secondo lui. Io starei lì su sta cosa, 8 a Valentino per come ha perso, adesso c'è anche una pagella per chi perde e come perde, poi dipende da chi perde, è chiaro. E poi c'è un religioso vaticanista, cioè viene inventato una specie di reclamo mistico Yamaha, poi smentito, in cui merito viene dato Valentino, cioè viene detto che c'è un reclamo da parte di Linjaris mi pare, di cui però Valentino è all'oscuro, non sa niente, ovviamente è al parco chiuso, come fa a saperlo? Mentre ancora Valentino è al parco chiuso in sala stampa a fare le interviste, si parla di reclamo ritirato, però probabilmente ad opera di Valentino, cioè pensate, non sapendo niente del reclamo riesci addirittura a farlo ritirare, mistico. A me dispiace per Valentino che deve avere queste persone qui intorno, lo dico sinceramente, non ne aveva bisogno quando vinceva, ovviamente, ne ha ancora meno bisogno adesso di queste miglior fede delle due volte. E poi c'è il tocco di classe da parte di Terruzzi che è sempre il mio preferito, Stoner non manca nessuno, nemmeno a suppo che stava lì a coccolarsene. E poi sì, era difficile, lo aiuta Cereghini perché non ha abbastanza argomenti, no forse, era un cupone, un freddo, ego riferito, insomma una merda. Alla fine manca poco che Stoner era una merda. Avere Stoner avrebbe dato il vero valore a Marquez, dice Cereghini. No, perché è colpa sua che se n'è andato a 26 anni. E certo, cioè aveva un contratto con Terruzzi, doveva stare lì a farsi prendere per il culo da tutti almeno altri 5-6 anni. Cereghini, eh ma come guidava la moto? Lui non la guidava nessuno. Dopo qualche anno lo ammette, no? Qualche anno fa era uno psicolabile col cagotto. Eh ma ha sbagliato ad andare via a guardare la figlia perché fra tre mesi, lui lo sa che è pedagogo, è maestro d'asilo, non sa, la figlia si rompe le balle e poi dopo lo molla. C'è questa idea qui. E poi il genio di coppia. Ma ha fatto più danni o ha fatto più bene, più del bene? E Cereghini che tiene famiglissima si inchina finalmente alle teorie astruse del Signore degli Anelli, di Gandalf. No, no, ha fatto più danni perché guidava una moto che non andava così bene e vinceva, impedendo uno sviluppo lineare e progredito. Pensate, questo qui vinceva su un cesso e ha fatto del male. Una volta i campioni si chiamavano apposta, una volta non era un pregio quello di guidare sopra i problemi e di vincere anche su una scopa, come dicevano di qualcun altro. Infatti valeva 15 milioni l'anno una roba così. No, è un torto. Poi il genio diventa trio e quello che sembra sempre che stia per ridere Eranimengo. Ha detto anche Valentino che la moto era ferma per colpa di Stoner. Cioè aveva messo un blocco Stoner, aveva messo dentro una specie di fusillo che impediva di girare. Ma poi 34-33 secondi è un bel essere indietro. Quando poi li prendeva qualcun altro invece era che stavano lavorando. Poi si capisce che è avanzato un altro secchiello di letame e chi lo tiriamo? Alla Ducati. quello che manca in Ducati è un team. Sono dei giantroni insomma. Un team di specialisti. Non è come in Ferrari che arriva Jean Todt e risolve i problemi. No. Siamo passati da preziosi che aveva dei difetti così a Gobmire. Cioè al nulla perché è un manager. Sarà contento Gobmire di essere il nulla. Se non si tira merda una volta la settimana addosso alla Ducati non si è contenti. Poi ovviamente si va a fare le presentazioni a Eicoma come nulla fosse. E gliele fanno fare anche. Bota.